ben ritrovati nelle studi di obiettivo news con noi programma intitolato 20 alle 21 allora volevamo conoscerti un po giustamente questo programma serve per far conoscere i candidati sindaci poi il giornalista che ha passione linea combinata di tutti i colori un po particolare molto particolare io mi sono occupato sempre di uffici stampa non ho mai lavorato un giorno in un giornale bisogna comunque fare qualcosa per il posto dove vivi e le persone con cui vivi con cui hai vissuto e da tenere in considerazione perché poi uno rischia di promette la luna e poi non la luna non riesce a portarla a posto a terra chiaro